Con i liberi spostamenti in una regione all'altra è tornata ad animarsi rispetto alle settimane scorse anche la stazione ferroviaria di Pescara Centrale dove si registra già da oggi un aumento di persone in arrivo ed in partenza dallo scalo ferroviario. Presenti anche gli agenti della polfera e gli uomini della protezione civile. Da oggi 3 giugno aumentano le frecce gli intercity in circolazione sulla linea adriatica e dunque anche in Abruzzo e Molise. sempre da oggi nella nostra regione in circolazione 130 treni regionali ed interregionali. Dopo sei mesi torna a casa? Finalmente si torna in Puglia dopo sei mesi a riabbracciare la mia famiglia con un po' di arrosticini, quindi Abruzzo-Puglia. È stata dura restare lontano dalla famiglia per tutti questi mesi? Abbastanza, infatti non so la reazione quando rivedo tutti. Hai scelto il treno per tornare a casa, come mai? Molto più sicuro. Il pullman non lo so, non mi fido. Si torna a casa immagino? Sì, si torna a casa. Dopo quanto tempo? Io non torno prima del lockdown, quindi dopo sei mesi. Torna in Puglia? Sì. Contenta di riabbracciare la famiglia ovviamente? Sì, un sacco, mi manca un sacco. Sposti solitamente in treno? Sì, prendo un sacco di treni all'anno comunque. Trovi bene con... In Italia? Sì, mi trovo abbastanza bene. Si torna a viaggiare fra le regioni, ecco il treno sta arrivando proprio in questo momento, insomma c'è ovviamente soddisfazione perché si può tornare dai propri cari, dalle famiglie? Certo, certo. Io vado a trovare un mio carissimo cugino che ha 91 anni, che è stato abbandonato da tutti, povero uomo e niente, mi sembra doveroso fargli una visita. Lei arriva da dove se possiamo... Emilia Romagna. Emilia Romagna. E come ha trovato questo viaggio dopo il lockdown? Ma... Sì, mi sembrava veramente tornare dalla guerra. C'erano poche persone sul treno anche perché ci sono ovviamente posti contingentali. Sì, sì, sì. Ci sono stati controlli particolari? No. Il viaggio? A Bologna sì, con la temperatura, ma basta. Il resto tutto bene? Sì, tutto bene. Viaggiato bene? Molto bene, grazie. Scusa, sei appena sceso dal treno che arriva da Venezia? Sì, da Venezia. Da Venezia, da dove arrivi? Da Milano centrale. Da Milano, tutto bene il viaggio? Tutto bene, sì, distanziamento sociale, poi Trenitalia ha messo a disposizione guanti, mascherine monouso, poggio a testa monouso, quindi massima sicurezza. Sei abruzzese? Abruzzese di Pescara, quindi. Di Pescara, quindi torni a casa contento? Finalmente dopo sei mesi, quindi... Dopo sei mesi di lontananza? Assolutamente sì. È stato un viaggio particolare questo? Viaggio, sì, da un certo punto di vista particolare per il tempo trascorso dall'ultimo viaggio e per le modalità, però per il resto tutto normale. Speriamo sia un primo passo verso il ritornare alla normalità.